Il Consiglio di amministrazione di A5SPA, Multi Utility di cui fa parte anche Como, ha approvato i dati al 30 settembre 2023 del gruppo. L'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite consolidate nei primi nove mesi dell'anno risulta pare a 443,8 milioni di euro. I ricavi registrano una riduzione minima rispetto al 2022, correlata ai minori volumi di vendita di gas, energia elettrica e calore, a causa del clima straordinariamente mite che ha contraddistinto la prima parte dell'esercizio in corso e alla forte attenzione ai consumi da parte dei clienti, anche correlata agli interventi governativi di fine 2022 in tema di risparmio energetico e all'andamento stesso dello scenario energetico. Il margine operativo netto si attesta a 18,4 milioni, mentre il risultato netto del gruppo dei primi nove mesi dell'anno è pari a 8,7 milioni. Entrambi i dati sono in flessione rispetto al 2022. Il 2023 continua ad essere contraddistinto dalle incertezze geopolitiche derivanti dalla guerra tra Russia e Ucraina. In un contesto già complesso si è aggiunta con il mese di ottobre la crisi medio orientale determinata da reacuirsi del mai sopito conflitto israelo-palestinese, una situazione che alimenta il rischio di espansione del conflitto stesso ad altri paesi con possibili impatti su tutti i mercati. In questo contesto il gruppo, grazie alla diversificazione delle proprie attività, guarda comunque al futuro con fiducia e ritiene di mantenere anche per il 2023 risultati positivi seppur in flessione rispetto all'anno precedente.